Città perduta dagli Inca, la città perduta dagli Incas. Aspettiamo la pioggia, però speriamo allo stesso punto che non arriva più. Il tempo è bellissimo. Siamo saliti su Huayna Picchu, questo qua. C'è anche Jacob. C'è una giornata stupenda. Ancora non abbiamo deciso se torniamo con il treno oppure a piedi. Questa è la Porta del Sol, lassù, ma non la faremo questa volta. L'architettura è veramente fantastica. Le pietre che sono tagliate sono troppo belle.